Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Elia e oggi parliamo di pulizia delle lenti, ma prima sigla! Se sentite un audio migliore è grazie all'acquisto del mio microfono wifi che si connette tranquillamente con il sistema iPhone e Android della marca Mooman, ci sono addirittura due microfoni nell'astuccino che si ricarica con la presa USB-C e la custodia fa anche da ricaricatore per i microfoni, ce ne sono due quindi nelle interviste o quando si parla fanno in video i due è comodissime, poi è ultra portatile In generale quando si parla di pulizia delle lenti ogni appassionato o professionista ha le proprie idee Sentendo varie opinioni ho visto che non è proprio chiaro l'argomento pulizia delle lenti perché passiamo da un estremo all'altro di alcune persone che dicono è meglio non toccare le lenti perché sennò si va a rovinare l'antiriflesso che è stato depositato sopra le lenti ottiche durante la produzione Altri invece che le puliscono di continuo ogni giorno, ogni uscita e altri che utilizzano delle lenti protettive cioè degli accessori che vengono messi sopra l'ultimo elemento ottico per proteggere la lente esposta Bene, oggi sono qui per chiarirvi tutti questi dubbi e spiegarvi la maniera corretta per pulire le nostre lenti Faccio una parentesi poi la chiudo, io parlerò per la fotografia naturalistica perché ovviamente un fotografo ad esempio di matrimonio non avrà mai uno sporco eccessivo nelle proprie lenti quindi la gestione è diversa Noi fotografi naturalisti che fotografiamo ovviamente all'aperto abbiamo la lente esposta alle interamperie quindi neve, pioggia, vento, polvere, sabbia quindi si sporca molto di più perché la contaminazione può essere diversa Noi fotografi naturalisti abbiamo una contaminazione estremamente variabile che va dal semplice calcare dell'acqua dalla sabbia che a livello microscopico sono piccole rocce che vanno a creare un'abrasione sul film più esterno della lente che è l'antiriflesso andando nel tempo a deteriorare la lente ovviamente ci vogliono non 5-6 anni ma 20-30-40 quindi come ci si comporta? ci si comporta che prima cosa bisogna sempre, sempre tenere il paraluce perché già il paraluce protegge da eventuali botte all'elemento frontale ma protegge anche dalla polvere, pioggia, intemperie e ovviamente dai raggi parassiti io non capisco perché c'è gente che fotografa così allora cosa serve il paraluce? che se uno lo compra a parte costa sui 500-600 euro perché c'è mercato anche per i paraluci addirittura ci sono dei brand che fanno solo paraluci il paraluce quindi è essenziale prima cosa tenere sempre montato il paraluce poi abbiamo la nostra lente che andremo a pulire in base a come la utilizziamo ovvero la guardiamo proprio contro luce e vediamo se è completamente contaminata da polvere, sporco e altro completamente dico non solo una piccola parte perché noi abbiamo anche il vantaggio di avere teleobiettivi molto luminosi quindi con un diaframma molto aperto 2.8 f4 se io una lente così metto un nastro gommato ad esempio mezzo centimetro per mezzo centimetro nel centro e vado a fare la foto non si vedrà nessuna differenza cioè semmai un piccolo calo di luce ma non dà problemi mentre se nello stesso assetto quindi con la carta gommata mezzo centimetro per mezzo centimetro al centro chiuda f11 o a salire si vedrà un punto nero che diventerà sempre più grosso ed evidente perché ovviamente chiudiamo il diaframma c'è meno utilizzo del diametro della lente perché ovviamente andiamo a chiudere il diaframma e sarà utilizzato sulla parte centrale dove abbiamo messo come esempio la carta gommata stessa cosa per la polvere o eventuali scheggiature della lente frontale quindi per prima cosa bisogna eliminare la contaminazione ma di sicuro non andiamo con un pannetto perché andremo solo a distribuire lo sporco ma addirittura andremo a graffiare il trattamento superficiale perché se noi guardiamo a microscopio la polvere è come vedere delle rocce appuntite, accuminate quindi per prima cosa bisogna eliminare la contaminazione con un'aria gentile quindi ci sono vari metodi, vari sistemi, varie attrezzature ve ne faccio vedere alcune la prima è una pompetta dove si va proprio a pompare stando ovviamente ad abita a distanza per non urtare il vetro è un po' scomodo non ha una grande potenza ma può andare bene ed è un sistema economico l'altro sistema è quello di soffiare con la bocca sulla lente facendo un bel respiro è assolutamente no questa qua è una cosa da non fare perché l'alito, la saliva hanno una forte acidità e col tempo si va proprio a rimuovere gli strati protettivi questo assolutamente no perché soffiando capita sempre un po' di saliva sulla lente assolutamente l'altro sistema innovativo, nuovo il BB2 della Nightcore che ho acquistato per la pulizia del mio parco lenti è praticamente una pompa automatica che produce aria veramente interessante si ricarica con l'USB-C ha varie modalità di potenza frontalmente c'è la luce che si può accendere e un pennellino vi faccio vedere qua si accende la luce e qua tre modalità di erogazione dell'aria sentite questa è la prima la seconda e la terza torniamo alla pulizia utilizziamo il livello 1 e iniziamo a eliminare tutta la polvere e la contaminazione come vedete sto facendo un errore perché va capovolta la lente in questo modo per la forza di gravità scenderà tutta la contaminazione polvere e altro una volta fatto il trattamento gentile aumentiamo la potenza al massimo per eliminare altri piccoli residui ora ora utilizzeremo un pennello in questo caso io ce l'ho già integrato ma col nightcore viene dato anche tutto il kit con gli accessori per la pulizia non solo della lente frontale ma anche della macchina fotografica del corpo della lente i quali possono essere attaccati direttamente sopra al BB2 in questo modo la lente sempre capovolta ora siamo arrivati circa al 70-80% di eliminazione della contaminazione sopra non abbiamo più parti mobili ma abbiamo tutto ciò che è rimasto attaccato alla lente quindi dovremmo andare a rimuovere con un solvente perché può essere da grasso possono essere resine di piante può essere residui di calcare dell'acqua tutte queste cose che vanno solubilizzate o comunque eliminate con un solvente quindi abbiamo due strade la prima che è un po' più brigosa ma relativamente economica è prendere dell'alcol isopropilico non usate altri alcol o altri solventi alcol isopropilico e uno straccetto di quelli apposta per occhiali che si comprano il bello il brutto di questi straccetti è che funzionano molto molto bene però è un peccato buttarli ogni volta che si utilizzano perché sono chiaramente riutilizzabili però andrebbero lavati con acqua osmotica o comunque h distillata con dei solventi particolari risciacquato tantissimo e quindi si è economico però dietro c'è una lavorazione mica indifferente oppure in alternativa che io preferisco vendono in confezione da 50 o da 100 direttamente le salviette per pulire le lenti e dentro hanno dei solventi apposta per le ottiche che non vanno a rovinare in alcun modo tutti i trattamenti che ci sono sopra quindi prendiamo la nostra salvietta a mani ben pulite non sudate quindi vi andate a lavare le mani sarebbe ancora meglio utilizzare i guanti però possiamo anche non utilizzarli l'importante è come tenete la salviette come l'aprite sempre negli angoli si chiude a metà noi contaminiamo solo una parte e l'altra parte la utilizziamo partendo dall'esterno verso l'interno vi faccio vedere meglio andiamo a pulire la lente poi la giriamo la riapriamo e adesso facciamo un tipo fiorellino che andiamo a passare in maniera più uniforme per raccogliere eventuali pulviscoli una volta pulita la lente soffiamo nuovamente per eliminare l'eventuale pulviscolo che ha lasciato il fazzolettino quindi sono fibre vegetali andiamo direttamente con aria massima sempre a una distanza di 10-15 cm per uniformare capovolgiamo sempre la lente e la pulizia e la pulizia è completata vi ripeto quando va fatto quando vedete che la contaminazione è completamente uniforme ed è stratificata quindi in media non si può dire io personalmente facendo varie uscite alla settimana le pulisco una volta al mese ma si può arrivare anche le due settimane indicativo fino a pulirla una volta ogni due o tre mesi dipende quanto lo utilizzate dove lo utilizzate e quanto si sporca finita la pulizia della lente si passa alla pulizia ovviamente del paraluce perché se è tutto impolverato e voi lo mettete sopra con vibrazioni o altro si va subito a contaminare la lente frontale il paraluce lo potete tranquillamente soffiare con un po' d'aria per quanto riguarda le lenti fisse non vi preoccupate se lo guardate contro luce e vedete che ci sia qualche puntino di polvere interna è normalissimo c'è da quando hanno fabbricato la lente mentre per quanto riguarda le ottiche con escursione anche se sono tropicalizzate può essere che nel tempo si riempiano di polvere come il 100-500 il 100-400 il 150-600 e così via lì dovete stare attenti a dove utilizzate la lente con le sue protezioni nel caso si riempia troppo di polvere dovete mandarla per forza in assistenza mentre per l'utilizzo di elementi accessori aggiuntivi che vanno messi posizionati frontalmente alla lente come filtri neutri per la protezione hanno senso solo in alcune circostanze non montati sempre possiamo andare a applicare sopra le lenti i filtri quando sappiamo già che andremo a fotografare in posti dove la lente si sporcherà ad esempio vicino a una cascata o una giornata uggiosa che piove di continuo che so che sarò in appostamento per ore fuori lì può avere un senso mettere la protezione ma non montata sempre perché ricordo che è sempre un aggiuntivo dove distorce la reazione elettromagnetica luminosa quindi può creare aberrazioni alterazioni cromatiche eccetera ovviamente in determinate circostanze non sempre è visibile i difetti che porta ma in generale non conviene utilizzarli oppure se li volete prendere acquistare non acquistate lenti economiche da 30 40 50 euro cioè i filtri da mettere davanti devono costare almeno un centinaio di euro come ad esempio case offre soluzioni per tutti i tipi di lenti anche teleobiettivi la protezione frontale a un prezzo che si aggira sui 130 140 euro però io vi sconsiglio di montarla e tenerla si monta solo esclusivamente se sapete che andrete a utilizzare la lenti in posti dove al 100% si sporcherà l'elemento frontale in tutte le altre situazioni è meglio evitarle fate la pulizia della lente vi godetevi la lente e non vi preoccupate troppo preciso una cosa un pochettino di polvere sopra è normalissima e non vedete mai le differenze perché le lenti anche le ultime lenti RF non hanno una capacità risolutiva così alta da dare fastidio un piccolo film di contaminazione di polvere quindi state sereni non strofinate troppo le vostre lenti pulitele prima con aria poi con un pennellino e poi solo successivamente con un pannetto morbido quando avete eliminato tutta la componente micro rocciosa detto questo spero di avervi chiarito alcuni dubbi e noi ci vediamo al prossimo video ciao grazie a tutti grazie a tutti